Everybody f*** it, lose it! Ovviamente anche da lontano parla Eccolo Mamma mia, che grande Xenic Colcettino 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 mi trovo troppo bene su Ghost Cazzo, ci sta la duna La duna sega Merda, merda, merda Porca puttana, perché non ho messo i caricatori modificati Mannaggia la troiaccia Oh, oh Do cazzo Mamma mia, quanto lagga Oh, lagga ragazzi Mamma mia, mi ha fatto caga in mano Oh, oh Cazzo Tutto uno, oh, oh Si, per lui si Quando gioco io, lui fa, oh, oh, oh Quando gioca lui, io faccio, oh, oh, oh E, oh, e, oh Comunque, una cosa seria Mi è passato uno, si, una cosa seria, vai Pumperz Vabbè No, vabbè, per ti scherzi Ma che cazzo Giusto così possono farite comunque Eeeh E' vero, farlo di più ridere così Si, si, che tu li nomini e dici Pumperz Vabbè, basta, se no poi venga che ci accaniamo con i Pumperz Oh, oh Perché non ha sparato? Perché prima non ha sparato? Cioè, mi ha fatto uccidere sta cosa Vi mandiamo questo esercito di 4.000 iscritti addosso Vai Mi piangono voi Attaccate Tutti i slice Oh, cazzo Naturalmente per tutti quelli che in questo momento stanno già scrivendo Ma che cazzo vi credete? Se avete soltanto 4.000 iscritti Non sappiamo, stiamo scherzando Madonna, cagna Madonna Madonna mia Ezzo Andrevo usci da là Grande Intanto lui tipo si sta toccando la pancia vicino a me E' veramente una cosa schifosa Quindi meno male che non c'è la fisca Ma hai detto si sta spimpettando? No, sta toccando la pancia Porca troia Ma che sempre in due vengono, mannaggia Matunno Mamma mia Aghiacciante Mi discrivo Mi saluto della Juventus Vabbè, aghiacciante eccolo cioè E' giusto Questo ghiaccio è aghiacciante E' aghiacciante Allora, andiamo avanti Abbiamo perso il bravo Non spunta neanche per cazzo quello la Vettaci della madonna Oh, no, ma No, non cerco due non failati Com'è possibile il lag di merda? Che poi c'è il succo bravo E cioè il bravo è cattivo Non l'ho capito Manco io Eh, ok Dove sta? Tanto ti devi qualcosa per riempire Dove è andato? Dove è fottutamente andato? Fottutamente andato Ecco là, vedi il pallino Sempre che vedi ancora eh Oh, ce n'è destra Sinistra Destra Sinistra Oh, un altro Cazzo che culo Ma che culo che è? Questo è il bravo è Mortaci tua Mamma mia Lezzo Mamma mia Lezzo Adesso tu devi mettere un mi piace Alvoro dai No, non lo mettete Non è vero mettete Adesso mettete E poi adesso se volete passata anche in descrizione Mortaci tua Dove c'è? Al link alla pagina Facebook Perché so che tanti di voi non hanno messo ancora il mi piace Perché l'altra volta quando Oh, ma Oh, ma Ma se l'acqua un'altra volta ha guito la partita Ti giuro Quando ho detto Lezzo Quando ho detto di passata su Facebook Mamma mia Lezzo Vabbè ci puoi mi fatti una cosa Vai dilla Quando ho detto l'altra volta è passata su Facebook La pagina Facebook Ma vede Lezzo No Ho visto che siete passati in tanti Quindi molti non sapevate che c'è la pagina Facebook Quindi mi ripeto con quelli che Non lo sanno ancora Stai zitto 5 secondi A me li fatti con tutti Ma non è che io devo guardare poco Come hai capito E passate poi se volete ci stanno con i nostri profili privati Non lezzo Proprio Ampassando Porca madonna Vabbè basta mi pare che sta per piccolo zello Cioè No no Ah scusami scusate Mi schicciate tanto Io qua morirò Ne sono certo Ambiacciante Tra dieci Oh bello Conquistavo qua Oh oh Mamma mia godivo se non conquistavi Ma come fai a non morire E e e e Orca troia E e e Oh Basta E Basta Oh Lezzo Grande ma guarda te l'ho messo Fottuto il genere Siamo Tanto ora muochi Siamo in periodo dei saldi Ovvio ci sono i giubbotti Ah bobo No sono coglione Sono coglione duorzi Eh lo sapevo io Porca puttana Mannaggia Eva Allora Andiamo di qua E e e e Mamma mia Tiro a lunga città 200 Ecco Mazzacce c'erano i doppi puntero 400 I double point Dunque adesso mi sentite di qua Sono qui eh E adesso mi sentite di qua Sono qui eh Mamma mia colpo preciso Mortacci tu un lag Ma beh basta Sennò davvero Questo non è un video preso in giro contro Zeb perché Facciamo un video interattivo No facciamo un video preso in giro Tutti quelli che in questo momento si trovano appoggiati sulla mano sinistra Si devono grattare il naso Che cazzo Inviate il video in cui vi grattate il naso vai No perché so che in questo momento Oh io ci stavo veramente sulla mano sinistra Di sicuro eh Tutti quelli che invece eh sono Mortacci tu hai il heat marker di tua madre Un culo se li devi mettere Tutti quelli che adesso stanno ridendo perché erano veramente sulla mano sinistra Però non hanno scritto Chi 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 Stavo davvero sulla mano sinistra Adesso si devono grattare la testa Porca madonna Tutti quelli che si sono grattati la testa Cioè questo video è besting e basta Devono lasciare un commento per scrivere Daryl mi hai o nato Ok Penso di merda Ok Di merda C'è stato un momento Momento serietà Oh 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 no ho detto una partita colorato Oh 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 no vabbè io sto rosicando Quello è venuto ha detto mo ci penso io Sì Invece penso io morirai Bebio il colpo tuo Perché mi curano tutti i nemici Non si può fare una partita Oh porca madonna Oh ma che cazzo Cioè ha sparato amico tu Ha preso quello dietro Incrediboll Porca Non fa Basta Ma che cosa sei sei drogato Cioè Ma vuoi morire Vuoi morire Non riesco più a giocare Oh vuoi morire Non riesco più a giocare Basta Non riesco più a giocare Basta non ti cambio più i pannolini poi eh Tanto non prendi i pampers Oh ritorno Ma c'è un'altra marca di pannolini a porti i pampers No Come faccio a fare hit marker da 2 metri Cioè cristo dio Perché ricarico Perché ha sparato mentre ricaricavo Perché sta facendo tutto questo Pare che ho pippato prima di sto video Pare Vai andiamo Uccidiamo qualche Sbaglio Ho flashato la grande Oddio Oddio Ha visto un nemico ragazzi Non lo vedi mai No ho flashato proprio Non si sa quanto Oh questo sta andando di qua Sono qui eh Sono lì eh Oh eh Oh eh Oh eh Basta Che cazzo fammi fai i miei corpi Oh eh Oh 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 Do cazzo stanno E ma porca madonna Dai adesso in 20 secondi abbiamo fatto tutto l'alfabeto Una e tre nelle tereate A B C D E F H L M O P Q S S S S S S S Oh Mamma mia Tre forti per piani Non hai capito C'è porca troia Ti giuro mi sarà il velino Ti giuro Dio Dio Merda No basta No basta il cazzo C'è sto video è fatto apposta per fare queste cose Oh Lezzi Mannaggia la vostra Cosa è questa Lezza Lezza di sterco Che cazzo ne sa questa funzione del merdo Allora Se Cazzo proprio Andiamo verso alfa Andiamo su alfa Vai Ma quanto cazzo dura sta partita Mancano 19 punti 17 Eh Quando ho letto erano 19 Cioè se lo dici 10 minuti fa le mancavano 150 Capisci C'entra Questa è fisica quantistica bella Oh ma porco Ma come stai Oddio Dio No vabbè comunque questo qua proprio a prova di Non può morire Non può morire Porca troia Solo se tu gli fai Bu se spaventa un attimo passava una ammazza Ma ti stai zitto Ma che cazzo dici Comunque che figo sai che dovrei fare al giorno No Non lo devi fare Non lo devi neanche Però voglio giocare su hisbox Eh Dal microfono gli vorrei dire Hisbox spingiti Così Così Sì e poi devi dire sì Siri Siri spingiti Ma non l'ho visto Vabbè ragazzi comunque la partita è finita Nooo Lui ci perchiamo alla prossima Ricordatevi di lasciare un mio piace Giungere ai preferiti se viva Eee Iscrivervi alla pagina Facebook Condividetelo Qualcuno Dividetelo sulla pagina del Vaticano Eee Ci vediamo alla prossima Bella S-P-U-A-R-I-N-O Bella Bella